la pelle ama l'olio perché ne rafforza la naturale barriera protettiva bio è leggero e si assorbe velocemente affidati a bio per prevenire e ridurre smagliature cicatrici e idratare in profondità bio ama la tua pelle e ora prova l'efficacia del nuovo bio il 100 per cento naturale un potente mix di 14 oli naturali con focus un'estate ricca di domande e risposte questo mese i rimedi scientifici antistress satelliti pericolosi troppi detriti nello spazio come decifrare il linguaggio degli animali focus è in edicola con un numero doppio per soddisfare ogni curiosità ad amazon non solo pensiamo in grande ma agiamo in grande le aziende italiane hanno venduto oltre 80 milioni di prodotti insieme a noi finora le abbiamo aiutate a creare 50.000 posti di lavoro in italia proprio come questi non voglio perdere neanche un secondo di quest'estate per questo per la mia pelle scelgo gillette venus la soluzione più rapida e semplice basta un gesto per sentirla subito più liscia e sono pronta per tutte le occasioni di quest'estate e da oggi gillette venus è più sostenibile gillette venus basta un gesto che geni noi italiani la radio la pizza la moca e oggi qui il contenitore elettrico che rivoluziona la raccolta dell'umido la sua tecnologia brevettata rallenta il deperimento dei rifiuti e la formazione di liquido evitando i cattivi odori will be la soluzione che fa la differenza hello good morning boss how is you i have the results right here we have reached all our goals for this quarter yes absolutely fantastic you did a great job it was a pleasure doing business with you sfonda nel mondo del lavoro con i corsi di babel